Dopo le dieci aule individuate nell'Istituto delle Suore Stimmatine, il Comune di San Giovanni Valdarno ha trovato altre quattro aule, questa volta nei locali della parrocchia di San Pietro e Paolo, per gli studenti e le studentesse dell'Istituto Professionale Marconi, il cui plesso scolastico, con 20 aule e 15 laboratori, è ancora inagibile, chiuso a causa del crollo del solaio del controsoffitto, avvenuto a pochi giorni dal suono della prima campanella. Era stato il dirigente scolastico Roberto Santi a manifestare la necessità di individuare ulteriori ambienti e locali in cui trasferire le classi dell'Ipsia. Il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi, si è quindi attivata e lo scorso mattedì sono state individuate le quattro aule nei locali della parrocchia del quartiere Bani, ritenute sufficienti dalla scuola. Grazie alla disponibilità di questi ulteriori spazi, ha dichiarato il primo cittadino, che i studenti e le studentesse potranno tornare a fare lezioni in presenza, nell'auspicio che la provincia effettui gli interventi necessari al plesso Marconi quanto prima, e che i ragazzi e le ragazze possano quindi far ritorno al più presto nella loro scuola. Grazie a tutti.